Promuovere le bellezze naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari del territorio cosentino è stato al centro dell'iniziativa Porti Aperte alla Camera, una delle attività promosse dal presidente dell'ente camerale di Cosenza, Klaus Algeri. Abbiamo aperto la Camera alle imprese, alle istituzioni, ai consumatori, ai cittadini. Completiamo quel discorso delle imprese storiche che avevamo premiato con 50 anni di attività a giugno, gli consegneremo un libro con la loro storia, ma insieme a loro noi daremo un'attestata a 12 nuove imprese che iniziano l'attività da lunedì, quindi il passato nel futuro. Per l'occasione è stata presentata l'Associazione Strada del Vino e dei Sapori delle Terre di Calabria della provincia di Cosenza, un interessante progetto di marketing territoriale nato nell'ottica di un accrescimento dell'economia locale e della promozione dei prodotti enogastronomici della provincia di Cosenza. All'interno della manifestazione è stato realizzato anche un ideale abbraccio tra passato e futuro, ovvero tra le 31 imprese storiche e i 15 neo-aspiranti imprenditori della provincia di Cosenza, che nell'occasione hanno ricevuto un attestato di partecipazione al progetto nazionale Crescere Imprenditori, mentre alle imprese storiche longeve della provincia di Cosenza è stato consegnato un cofanetto ricordo. La manifestazione si è conclusa con una degustazione dei prodotti DOP e GP dei consorsi che fanno parte dell'associazione. Renza Gonzales per la C News 24